Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per sabato 18 novembre 2023. Nuova distensione del getto zonale in area nord-occidentale europea ad opera di una profonda depressione oceanica in sede inglese. Ciò porterà un netto peggioramento sul comparto centrale europeo con forti venti occidentali. Tale scenario barico sposterà definitivamente verso Levante e la discesa fredda attiva ora sui Balcani. Nel mentre vi sarà una temporanea pausa anticiclonica in sede mediterranea. Vasto anticiclone freddo sulla Russia. Previsioni meteo in area italiana per sabato 18 novembre 2023. Nord. Bel tempo con cieli in gran parte sereni salvo qualche nube in addossamento sui versanti esteri alpini dove si avranno delle nevicate sparse fino a bassa quota. Dalla sera nubi medio-alte in aumento iniziando da ovest. Centro. Stabile e soleggiato su tutte le zone con tendenza dalla sera ad un progressivo aumento delle nubi medio-alte iniziando dal comparto toscano. Sud e isole. Ampie schiarite su tutte le zone fino a cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche residuo ed innocuo addensamento mattutino sul basso versante ionico. Dalla sera locali stratificazioni sulla Sardegna. Temperature massime in diminuzione, a tratti sensibile sulle regioni centro-meridionali. Minime insensibile calo su tutte le zone con le prime gelate nelle pianure del nord a causa dell'inversione termica nei bassi strati. Ventilazione tesa dai quadranti settentrionali con residui rinforzi al centro-sud e sulle isole. Venti in attenuazione dal tardo pomeriggio. Mari da mossi a molto mossi con moto ondoso in rapida attenuazione iniziando da nord. Mari onio a tratti agitato. Tendenza in area italiana per domenica 19 novembre 2023 e lunedì 20 novembre 2023. Giornata di domenica nel complesso stabile con alternanza di schiarite e qualche annuvolamento, più compatto sul settore medio-alto tirrenico. Locali formazioni nebbiose in Valpadana. Inserata nubi in deciso aumento tra Liguria e Toscana. Pressione in calo lunedì con ingresso di ventilazione da ponente accompagnata da nubi compatte lungo la fascia tirrenica, dove non si escludono deboli piogge. Temperature in graduale aumento, specie nei valori minimi a causa dell'arrivo delle nubi. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.